allora questo qua è un video per andare contro al bullismo ai miei danni e ai danni di tutti quelli che hanno le ramoscia come insomma si sente da tutti i video fatti dal 2014 a oggi la cosa che mi ha dato più fastidio è stato il ripetersi dei commenti di un certo Nicola Martinelli che sarà correlato e diffamato quindi dal mio mitico telefono sono andato su google ho cercato scioglilingua con le r è venuto fuori frasimania.it ce ne sono 25 tigre in tigre no spero ma questi erano facili bisogna irrorare le aree rurali nell'area di rovereto 3 tigri conto 3 tigri e remo e re ma sul reno con remi di rame pure per lei parti per il peru proprio per i per il purè ma che cazzo sto facendo vabbè orrore orrore e tua mamma è una c***a orrore orrore un ramarro verde su un muro marrone divertiti Nicola una rana nera e rara sull'arena errone una sera affanculo vabbè non lo sto a ripetere c'era la v si si è boh ha detto è boh c'è la remotion sopra quattro rossi sassi quattro gotti e si tua mamma qua mi sono impiantato seriamente sopra quattro rossi sassi quattro gotti ed io spettacularis sopra quattro rossi sassi quattro grossi gatti rossi allora ora ho visto un ramarro marrone cadere nel borrone era proprio un obrobio quel brutto bruco bruno sopra la panca la capra campo sotto la panca la capra crepa nell'anfratto della grotta 33 gas e cosa c'è qua dentro da lanciare porta aperta per chi porta chi non porta porta pure poco importa che cos'è il comunismo qua che bisogna sempre portare qualcosa no che mi inviti non è che devo per forza portare qualcosa sei te che mi vuoi sei te che ti assumi la responsabilità di offrirmi qualcosa sodo l'habitatore dell'oltre tomba il rauco suon della tartare a tromba non so niente che sono messo gli accenti giusti tre strane timbratici stringono stringa tre timbrate tre strane timbrate ed io una cosa seria molto seria non devo prendere sotto gamba tre strane timbratici ste porca puttana mi pianto qui tre strane timbratici stringono stringa a tre timbrati questo è l'unico in cui ho veramente difficoltà tre strane timbratici stringono stringhe a tre timba e ma tre strane timbratici stringono stringhe a tre timba e tre strane timbratrici stringono stringhe a tre timbratrici streghe o treno topo topo piazza linea 27 treno troppo stretto e troppo stracostracca troppi trossette treno troppo stretto e troppo stracostracca troppi storpi troppi a troppo ma che cazzo vuol dire ma io che cazzo ne so scusa il classico 30 te ho sbagliato il classico 33 trentini entravano a trento tutti e 33 trotterellando e vai quanti rami di rover e quanti rami di rover roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere a rami di rover una rara una rara rana nera nell'arena lei che massimo esperto degli autobus sa quante linea 4 passano a quest'ora dal flora per caso dovrebbe passarne una ogni mezz'ora ok grazie cari quanti rami di rover no aspetta l'ho già letto una rara rana nera nell'arena ero una sera una rara rana bianca sull'arena ero stanca sei tu quel barbaro barbiere che barbaramente barbasti la barba quel povero barbaro barbone ma che domande di merda ti fai fatti i cazzi tuoi anzi è ancora più lunga è sempre la stessa frase proprio lunga sei tu quel barbaro barbiere che barbaramente barbasti la barba quel povero barbaro barbone in piazza barberini per rober spire instauratore del terrore era una terribile no sbagliato qui però per spire instauratore del terrore era un terribile eroro ricordare col verde ramo ramo ramarro cio sto anche spendendo tempo non mi ha incasinato la stanza mi sono dovuto preparare, per non far vedere il filo qui, c'è letteralmente il microfono, ho dovuto far passare il microfono da dentro ai pantaloni, tutta sta roba per farmi prendere in giro da solo. E' questo il futuro dell'umanità. Perché se poi noi ci chiudiamo nel dire, eh ma lui mi ha offeso, non si migliora mai. Un conto ovvio è se qualcuno esagera, tipo se io dico ogni parola e pur l'altro ci mette la vi al posto di quella maledetta consonante come Nicola nella vita reale, è ovvio che diventa fastidioso, però scherzateci sopra sui vostri difetti, non arrabbiatevi, fate se stronzate come me. Non ho neanche finito l'ultima frase. Un empio imperatore di un ampio impero scoppier fece una guerra per un pero, credeva conquistare il mondo intero e l'imperatore ma perse l'ampio impero. Boh basta, insomma, era un video corto. Basta, no, seriamente è finito il video? Ah, ok, devo fare la battuta stupida. Tra poco sentirete l'inizio della canzone dell'outro che fa... no, 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 queste note. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.